ciao allora quanto ci influenza quello che accade intorno a noi quanto ci influenzano le persone che abbiamo accanto allora spesso racconto la storia delle monache buddiste con cui ho vissuto e di quanta importanza loro danno alla mente ovviamente nel buddismo si porta attenzione alla mente al riallenamento della mente a rendere la mente pura a rendere la mente in pace e per loro è molto importante fare attenzione a cosa di cosa si alimentano non solamente di cibo ma di tutto quello che hanno intorno l'ordine nella loro casa nella loro camera delle persone che hanno intorno della musica delle parole dei pensieri e di qualsiasi insomma della televisione delle cose che guardano di qualsiasi cosa quindi sì le persone che abbiamo intorno ci influenzano le parole ci influenzano e quindi è molto importante avere vicino a noi nella maggior parte del tempo le persone che possiamo scegliere accanto a noi persone che che ci influenzano in un modo positivo persone che hanno parole che non sono aggressive e quindi fare molta attenzione a questo ci sono ovviamente nella nostra giornata nel nostro lavoro nei nostri familiari sono tutte persone che magari dobbiamo vedere ma le persone che noi scegliamo accanto a noi cerchiamo di sceglierle in modo che vadano a supportare il nostro percorso di pace di serenità e non il contrario quindi facciamo sempre molta attenzione innanzitutto a quello come che facciamo noi al nostro interno quindi alle nostre emozioni ai nostri pensieri e lì andiamo a lavorare ma sicuramente quello che c'è intorno ci influenza ci influenzano i film che guardiamo le persone che mi dicono che sono la ricerca della pace della serenità e poi magari la sera si guardano solo film violenti quello purtroppo noi pensiamo che non ci influenzi in realtà specialmente mentre guardiamo un film entriamo in uno stato di rilassamento quindi di onde alfa del cervello e in queste onde alfa che in realtà sono le onde oltre a essere di rilassamento sono le onde in cui sono i bambini che assorbono tutto in quel momento noi stiamo assorbendo tutto quindi se noi stiamo guardando un film molto diciamo aggressivo in realtà lo stiamo assorbendo molto è come se quando insomma abbiamo vicino delle persone magari siamo molto rilassati e magari sono persone molto aggressive o comunque che usano parole aggressive non sono aggressive ma magari usano delle parole aggressive e anche se non ci facciamo caso perché magari siamo abituati in realtà veniamo influenzati anche da questo quindi quando facciamo la scelta delle persone delle cose delle situazioni che abbiamo intorno cerchiamo di fare una scelta consapevole perché se la nostra priorità è la serenità le nostre scelte devono essere indirizzate verso quel punto e non vuol dire che da un giorno all'altro non abbiamo più frequentare determinate persone ma vuol dire aumentare nella nostra vita persone che ci fanno stare bene persone che ci donano serenità e pace film che ci donano una serenità e pace o che ci danno un senso di gioia di emozione positiva quindi musica che ci dà un senso di gioia qualsiasi cosa quindi provate a osservare la vostra giornata le vostre abitudini e a vedere se nella vostra giornata riuscite a fare questo tipologia di scelte e insomma e poi in base a quello vi andate piano piano a riallineare basta una piccola scelta ogni giorno che piano piano va a cambiare la vostra vita perché di solito faccio l'esempio noi stiamo andando verso una direzione se anche facciamo un piccolo cambiamento piccolo piccolo che sul momento non sembra importante in realtà anche se partiamo praticamente quasi sulla stessa linea di vita di scelte in realtà dopo sei mesi saremo completamente in un altro punto quindi anche le scelte più piccole in realtà portano grandi cambiamenti nel in lungo andare l'importante è a fare scelte che poi facciamo costantemente durante la giornata e ogni giorno quotidianamente grazie mille e buona serata ciao